Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Celebrata anche a Fano la festa della polizia A Gallo di Petriano, chiesa gremita per l'ultimo saluto a Laura Anziano derubato della catenina e dell'orologio, lui dice non ricordo nulla Saviano arriva a Fano per presentare il suo ultimo libro Taglio del nastro per la nuova proloco, si chiama Passo del furlo Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Un cordiale saluto, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale Alla presenza delle più alte cariche militari, civili e religiose Anche nella provincia di Pesaro e Urbino Per la precisione a Fano, questa mattina è stata celebrata la festa della polizia di Stato Nel 2016 c'è stato un calo della delittuosità dell'8,6% Un trend che si è consolidato anche nei primi mesi del 2017 Ma nonostante ciò, il reale Stato della sicurezza non coincide Con la percezione di una comunità che si sente spesso smarrita e spaventata Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli Nel suo discorso in occasione del 165esimo anniversario della nascita della polizia Che si è svolto anche nella provincia di Pesaro e Urbino Luogo scelto per l'edizione di quest'anno il Teatro della Fortuna di Fano Una cerimonia trasmessa in diretta su Fano TV E riproposta questa sera dopo l'edizione del telegiornale Tutto è iniziato con il picchetto d'onore in piazza a 20 settembre Con il passaggio in rassegna del questore Antonio Lauriola E del prefetto di Pesaro Luigi Pizzi Con baglierine tricolori e cappello bianco della polizia Anche un centinaio di studenti di scuole medie e superiori Ad accompagnare la cerimonia all'assemblea di fiati del Conservatorio Rossini di Pesaro Importanti i numeri snocciolati dal questore Sull'attività svolta dalla polizia in tutto il territorio provinciale Poi i risultati sono all'ordine del giorno Ieri c'è stato questo nostro poliziotto che è intervenuto Che ha evitato questo omicidio ai danni di una infermiera Qualche giorno prima Fano Una banda di rumeni che sono venuti qui per fare i soliti ride predatori Questo è una serie di eventi Ma la cosa importante è che la collettività ne senta beneficio Noi lavoriamo per loro Questa è la cosa importante Per loro e soprattutto per le vittime vulnerabili Dove ho sottolineato nell'intervento di oggi Ma quando si parla di polizia non bisogna dimenticare l'attività amministrativa Che svolge al servizio del cittadino Per esempio dall'aprile dell'anno scorso ad oggi Gli uffici hanno rilasciato quasi 9.000 passaporti E 10.500 permessi di soggiorno Numeri importanti anche per il commissariato di Fano Diretto da Stefano Seretti La polizia fanese ha effettuato circa 7.000 controlli su strada di persone E 4.100 veicoli Arrestando 38 persone E deferendone in stato di libertà 59 È un onore per noi qui a Fano Anche per la cittadinanza che è intervenuta Diverse anche amici, persone che sono intervenuti qui al teatro Lo sento, personalmente sento molto questo impegno L'impegno che portiamo avanti quotidianamente per la città, per la comunità, per tutto il territorio Insieme anche naturalmente alle altre forze di polizia E quindi questo è un po' il culmine, il giorno che suggella un po' tutto il nostro lavoro Quanto meno dell'anno precedente Quindi è anche motivo d'orgoglio per tutti noi Durante la cerimonia sono stati premiati con Encomi e Lodi Anche tutti quegli agenti che si sono distinti per meriti di servizio Egalo di Petriano, in provincia di Pese d'Urbino Oggi c'è stato il funerale di Laura La ventenne è rimasta vittima di un incidente stradale Di un colpo di sonno Le mancavano 500 metri per arrivare al garage della sua abitazione E invece il cuore di Laura di Sciullo, 20 anni Ha smesso di battere, probabilmente per un'emorragia interna Dopo che la sua auto, una Fiat Punto, ha invaso la corsia opposta E si è schiantata contro un albero Uno dei soli due esistenti Lungo la strada provinciale 423 Che doveva riportarla a casa, a Gallo di Petriano Un colpo di sonno, probabilmente Alle 4.45 di sabato mattina di ritorno dal lavoro E il motore della macchina, che per l'urto rientra nell'abitacolo Non lascia scampo alla giovane studentessa Che voleva diventare grafica pubblicitaria Qualche minuto dopo le 15, oggi pomeriggio Lalli, come viene ricordata da chi l'amata e dal parroco Arriva in chiesa, seguita dai genitori e dall'intero paese Una comunità è lutto Distrutta e segnata già un mese fa Dalla scomparsa di un altro ragazzo Un centauro di 32 anni, Luigi Alessi Che sempre nella stessa strada Dopo un sorpasso con la sua moto Si è schiantato contro un'auto Non dimenticheremo mai il suo viso gentile, allegro E la grinta che Laura metteva nel pensare al futuro Ha detto il parroco nell'Omelia Futuro che da ora in poi Vivrà nel ricordo di chi l'ha conosciuta E le ha voluto bene Torna a casa dalla campagna e viene rapinato La disavventura di uno dei pesci vendoli probabilmente più conosciuti a Fano Giannino Castellani Non sa darsi pace Giannino Castellani Un veterano dei pesci vendoli fanesi Uno che al pesce gli ha sempre dato del tu Uno che di cose in giro per mezzo mondo ne ha viste Eppure tutta la sua esperienza e il suo occhio lungo Non gli sono serviti contro la truffatrice di turno Che con la scusa di cercare lavoro sabato pomeriggio Dopo le 17.30 e un pomeriggio passato in campagna L'ha seguito fin sotto casa L'ha girato e frastornato con un fiume di parole Apro la porta aperta E si è compongente E entra e sta entrando Sta donna, sta ragazza E ha chiesto se trovevo Se potevo trovare Un lavoro per sta donna E' donato 3 o 4 minuti Mi ha rotto le scatole E l'ho presa di dietro L'ho girata E l'ho buttata fuori Nel frattempo che l'ho buttata fuori Mi ha accorso che non ho più l'orologio Nonostante il fular che porta al collo Anche durante l'intervista La donna è riuscita in qualche modo A portargli la via la catenella Assieme ad un ricordo di famiglia L'orologio l'avevo nel polso Io spostando l'ho presa da di dietro Ha filato questo orologio Sono accorto che mancava anche la catenina Anche lui colpito quindi dalla sindrome spagnola Come il suo coetaneo Predecessore nel giardino di casa Alle spalle del pesce azzurro Sembra che tecnica e dinamica del colpo Siano esattamente sovrapponibili Anche nella via di fuga utilizzata E' partita una forte macchina Con una marmerata un po' Una scelorata Non sono riuscito a vedere Che macchina era Ora agli inquirenti Non rimane che mettere insieme Tutti i pezzi di questo puzzle E scovare questa Arsenio Lupin In gonnella Chiaramente la foto che vi abbiamo mostrato Nel servizio è solo rappresentativa E dunque la persona ritratta Non c'entra assolutamente nulla Con la vicenda che vi abbiamo appena raccontato L'autore di Gomorra Roberto Saviano E' venuto a Fano per presentare Il suo ultimo libro Investire in cocaina Rende ogni 1000 euro 150.000 euro in un anno Se si investe in azioni Invece ogni 1000 euro Se ne ritrovano 1200 Secondo un report della Dea Americana E' per questo che ci si ammazza Dice Saviano Parlando ad un palazzetto stracolmo Di ragazzi ed adulti Che vogliono ascoltare Il pensiero dell'autore di Gomorra Roberto Saviano Una vita ultra blindata Fata di scorte e maglie strette Talmente strette Che non lo si può nemmeno avvicinare Per una breve battuta di slancio Previo accordo con lo staff E con la sua granitica Ed impenetrabile scorta Che si trova a Fano Di persona per parlare del suo libro E non con un breve filmato Come altre volte gli accade Cosa molto frequente ai noi Un appuntamento che il comune di Fano Ovviamente accoglie con molto piacere Perché sarà l'occasione Non solo per incontrare un grande autore E soprattutto un cittadino Che hanno impegnato da anni Nella lotta contro la criminalità organizzata Ma è anche una grande occasione Di impegno civile Che parla la città E soprattutto i più giovani E la presenza di centinaia di studenti Questo pomeriggio Fuori degli errori di lezione Una testimonianza importante Dell'attenzione che questa città Dà non solo la visita di Roberto Saviano Ma ai temi della legalità Occasione più unica che rara Per Fano per affrontare temi Come legalità, diritti e lotta alle mafie Saviano è in tour Per presentare il suo ultimo libro L'apparanza dei bambini Che narra delle vicende di una baby gang Che armi in pugno Si fa largo nel mondo della malavita E dei clan locali Dal 2006 Lo scrittore vive sotto scorta Per le minacce subite dai clan Che lui stesso ha denunciato Abbiamo iniziato e aperto il telegiornale Con la festa della polizia Ma la polizia in particolare Quella di Fano La polizia stradale Sta avendo momenti un po' difficili Soprattutto per la questione dell'accorpamento Sul tema della caserma Della polizia stradale Qual è la vostra posizione? La nostra posizione è abbastanza chiara Da diversi anni Il sindaco ha completamente sottovalutato La situazione della polizia stradale Tant'è vero che Dopo tre giorni Dalla risposta alla nostra interrogazione In consiglio comunale Lui si è detto tranquillo Che aveva la situazione sotto controllo Che era in contatto con i parlamentari locali E dopo tre giorni C'è stata la firma del decreto Che ha previsto La chiusura della polizia stradale Qui a Fano Anzi sul decreto ha indicato C'è l'accorpamento Con la sottosezione della polizia stradale Quindi Fano Oramai sta diventando la città degli ex Non è vero come sta scritto sul decreto Che la sottosezione diventa una sottosezione A competenza mista Perché di fatto Vedendo le esperienze degli altri Accorpamenti che ci sono stati nel passato Leggendo l'accordo che c'è fra l'Iscat E la società autostrade All'articolo 3,4 A voler essere proprio precisi È previsto che le pattuglie Sono previste solo Nell'ambito dell'autostrada Salvo eventi eccezionali Come che nessuno si augura Terremoti, alluvioni eccetera Quindi sembra questa una scelta Semplicemente dovuta A un taglio di costi puro Quindi noi Non sappiamo cosa risponderà adesso Il ministro All'interpellanza dell'onorevole Ricciatti Che tra parentesi oggi Era presente insieme al sindaco A fare passerella Alla festa della polizia Si è sentito il questore Il prefetto Che dichiarava Che avevano scelto Fanno a terza città Dalle Marche Per essere vicini alla cittadinanza Con un decreto Firmato la settimana prima Che prevede la chiusura Della sezione della polizia stradale Voi che cosa chiedete a questo punto? Chiediamo che il sindaco Alzi la voce Chiaramente è una scelta Che viene dal ministero Da Roma Ma a cascata Anche gli amministratori locali Vediamo che Nessuno protesta Nessuno fa niente Voglio dire A parole si dice una cosa Però nei fatti Tutto il contrario E sabato E' stata inaugurata Una nuova proloco Si chiama Passo del Furlo Doppio taglio del nastro Sabato mattina Al Furlo Per l'inaugurazione Del nuovo allestimento Del museo del territorio E della nuova sede Al suo interno Della proloco Passo del Furlo Che gestirà anche Il punto informativo E le attività turistico-recreative Della riserva Il presidente della provincia Daniele Tagliolini Ha evidenziato la volontà Di valorizzare sempre più La riserva Ribadendo che In consiglio provinciale Si sono riusciti a sbloccare 500 mila euro Proprio per progetti E investimenti mirati E ulteriore motivo di orgoglio E' stato ricevere Nelle scorse settimane La Carta europea La Carta europea del turismo Sostenibile Che rappresenta uno stimolo Per fare sempre più Lavorando insieme Questi eventi Soprattutto anche concordati Con la proloco provinciale Devono essere Un punto di rilancio Rispetto ad un territorio Che ha tante eccellenze Ambientali Culturali Un sistema Delle proloco Che sta funzionando benissimo Questo deve essere Un rilancio Per tutto il territorio Provinciale E a noi spetta quello Di supportarlo costantemente L'importanza di un'unione Di forze A favore del territorio E' stata sottolineata Anche dal presidente Provinciale Ampli Damiano Bartocetti Nella relazione Introduttiva All'assemblea Delle proloco Ricordando l'impegno Di queste associazioni Senza scopo di lucro Formate da volontari Nella promozione Dei luoghi Per la scoperta E tutela Delle tradizioni locali La valorizzazione Dei prodotti L'organizzazione Di manifestazioni Oggi Veramente Una giornata Stupenda Emozionante E direi Che premia Il lavoro Delle 64 proloco Della nostra provincia Sempre maggiori Proloco Sul territorio A favore Della promozione Turistica Per promuovere I nostri prodotti E possiamo dircelo Oramai creano Economia Le proloco Oramai creano Un'economia importante Il nuovo allestimento Del museo Del territorio Inoltre curato Dagli architetti Della provincia Marzia Di Fazio E Gerardo Prosperi È composto da due sezioni principali Dedicate alla morfologia Del territorio E alle diverse tipologie Di animali Che lo popolano Dall'aquila Al gufo reale Passando per le lepri Cerbiatti E da una sezione Dedicata al lavoro Dell'uomo Nelle cave Che fa capire Come erano organizzate Le giornate lavorative All'interno Della gola Del furlo Diciamo che non è un rinnovo Perché purtroppo Per noi è una prima sede Siamo stati vacanti Nelle stanze Dei vari presidenti Che ci sono succeduti Negli anni Perché la nostra proloco È dal 65 che esiste Però diciamo Un'ottima soddisfazione Perché questo ci dà L'idea Di essere vicini Veramente Loro vicini a noi E quindi noi Finalmente Rifar parte Del nostro territorio Credo che sia una bellissima cosa Ci sarà un'ottima partecipazione Verso gli enti E quelli che poi Seguiranno queste vicende Sono quasi ultimati I lavori di pulizia E ripristino Del litorale di Senigallia Il sindaco Maurizio Mangiolardi Ha annunciato Che saranno completati Entro Pasqua Un grande sforzo Spiega Mangiolardi Che consentirà La stagione Di partire E di svilupparsi al meglio Il nostro obiettivo Era quello di mettere I nostri operatori turistici Nelle condizioni ottimali Per garantire Già a Pasqua L'accoglienza Di visitatori turisti In una spiaggia Più bella e pulita Chi si recherà A Senigallia Ad aprile Troverà una città Con tanti eventi culturali A partire Dalla splendida mostra Venti futuristici Che verrà inaugurata Il prossimo 13 aprile Ancora cronaca È in corso Di accertamento È ancora al vaglio Della polizia Di fermo La dinamica Dell'incidente Di cui è rimasto vittima Un quindicenne Del posto Che è finito Al pronto soccorso Con un coltello Conficcato nella fronte Il minore Secondo una prima ricostruzione Era a cena Con i genitori Ed una comitiva Di una trentina Di persone Tra italiani E latinoamericani Quando una commensale Una signora Di origini cubane Per gioco Avrebbe finto Di lanciare Un coltello Che però Poi Le sarebbe sfuggito Di mano Colpendo il ragazzino Subito accompagnato Al pronto soccorso Di fermo La notte scorsa L'adolescente È stato trasferito Nell'ospedale regionale Di Torretta D'Ancona Dove i sanitari Si sono riservati La prognosi Escludendo però Il pericolo di vita Per ora Nessuna denuncia In commissariato Ma la donna Rischia di finire Indagata Per lesioni Colpose Una notizia Dell'ultima ora Non abbiamo però Molti dettagli C'è stato un incidente Ce l'è segnalato Un incidente Stradale In autostrada A14 Subito dopo Il casello Di Senigallia In direzione Nord Quindi in direzione Bologna Un'auto Sarebbe finita Sotto un camion Non si conoscono Altri Particolari Adesso La linea va Alla redazione sportiva A Matteo Del Vecchio Grazie Marco E benvenuti Al consueto appuntamento Con la pagina sportiva Del lunedì Che si apre anche questa sera Con il campionato Di Lega Pro di calcio Dove l'Alma Juventus Fano Dopo i 5 risultati Utili consecutivi Ha frenato bruscamente Complicando non poco Il discorso salvezza Una settimana Da dimenticare Per il Granata Che mercoledì a Gubbio E ieri in casa Col Pordenone Sono incappati In due sconfitte Che rendono ancora più complicato Il discorso salvezza Quanto meno Quella diretta Senza passare Per i play-out E dire Che ieri Almancini Di fronte a circa 1500 spettatori L'Alma era partita Più che bene Andando in rete Dopo 40 secondi Col debuttante Capezzani Lesto a scaricare In rete L'appoggio di Germinale Nel primo tempo Sono i padroni di casa A fare la partita Senza però Riuscire a trovare La via del raddoppio E lamentando Anche un calcio Di rigore Per una trattenuta Dissemenzato Sullo stesso Capezzani Al trentaseiesimo Pasticcio di Germinale Che con un retropassaggio Avventato Consente a Berrettoni Di pareggiare i conti Prima dell'intervallo Altro episodio Dubbio in aria friulana Ma per l'arbitro Il contatto Tra Agostini E Filippini Non merita il penalty Nella seconda frazione Di gioco Il Pordenone Sale in cattedra E riesce a mettere La freccia Al ventunesimo Con Parodi Che tutto solo In mezzo all'area di rigore Insacca di testa Su corner Di Martignago Il vantaggio dura Solo otto minuti E a rimettere le cose a posto Ci pensa Germinale Con una punizione Chirurgica dal limite Due minuti più tardi Capita tra i piedi Di Melandri Il colpo del KO Ma la sua botta Colpo sicuro Si stampa sulla traversa E sul capovolgimento Di fronte Si materializza la beffa Torta Nel tentativo di rinviare Centra in pieno La schiena di Zigrossi Tra i due Si inserisce Berrettoni Che segna la rete Del 2-3 Che chiude la partita A complicare le cose Per l'Alma Ci si mette pure L'Ancona Che andando a vincere A Parma Riduce a 4 Le lunghezze Tra l'ultimo posto Che significherebbe Retrocessione diretta E il penultimo Dove attualmente Il Fano è solo A quota 31 Sabato Trasferta proibitiva In casa della capolista Venezia Prima del forcing finale Dove le sfide Con Modena Lumezzane E Bassano Segneranno il destino Dei Granata Che comunque anche ieri Hanno saputo Tenere testa Per larghi tratti Della gara Alla terza forza Del campionato E chi invece Già conosce Il proprio destino Sono le squadre fanesi Impegnate nei campionati Nazionali di calcio a 5 Grazie al 3 a 2 Ottenuto ieri in casa Contro il Decima Sport Nell'ultima giornata Di Serie A Il Flaminia femminile Stacca il pass Per i playoff Riuscendo a mantenere Il secondo posto In classifica Di Claudia Giovannelli La tripletta Che consente alle ragazze Di Alessandra Imbriani Di giocarsi l'accesso Alla Serie A D'Elite Nel doppio confronto Del 23 e 30 aprile Contro il San Pietro Bozzolo In Serie B Maschile Fa festa L'Alma Juventus Fano Che supera in casa 4 a 0 il Todi E sale a quota 26 Punteggio che significa salvezza Grazie ai vantaggi Negli scontri diretti Col Corinaldo Delusione invece Per l'Eta Beta Che dopo solo un anno Deve dire addio Alla Serie B I ragazzi di Davide Barnesi Sconfitti sabato Per 8 a 7 Dall'Angelana Pagano un avvio di stagione Fatto di 8 sconfitte consecutive Ed un finale Dove specialmente Negli scontri diretti Si poteva sicuramente Fare qualcosa di più E proseguiamo con il calcio Nello specifico Quello giovanile Per parlare della Gazzetta Cup Manifestazione organizzata Dal Comitato Provinciale Di Pesaro Urbino Del CSI Oltre 60 bambini Di età compresa Tra gli 8 e i 12 anni Hanno preso parte ieri Alla manifestazione Organizzata dalla Gazzetta dello Sport In collaborazione Con Ringo e Cappa Che ha portato a Fano Per le fasi provinciali Sette squadre Divise nelle categorie Junior e Young A vincere i tornei Di calcio a 5 e calcio a 7 È stata la SD Academy Fano Che accede così Alle fasi interregionali In programma A macerata Il prossimo 7 maggio E a proposito Di 7 maggio È stata presentata Sabato La quindicesima edizione Della Colle Marathon Manifestazione Che si svolgerà appunto Domenica 7 maggio E che è stata Recentemente inserita Tra le 10 maratone Più importanti D'Italia Uno showroom Pedini Cucine Gremito di ospiti Ha fatto da cornice Alla presentazione Di quello che è un evento Che racchiude in sé Sport Turismo Cultura E solidarietà Saranno oltre mille Secondo le previsioni Gli atleti Che domenica 7 maggio Prenderanno il via Dalla porta medievale Del castello di Barchi Atleti Che dopo aver attraversato I borghi storici Di Barchi Mondavio Orciano San Giorgio di Pesaro E San Costanzo Arriveranno al porto turistico Marina dei Cesari di Fano Dove è previsto il traguardo A fare gli onori di casa Durante la presentazione Della Kermes Sono stati Annibale Montanari E Claudio Patregnani Rispettivamente Presidente e segretario Del comitato organizzatore Che hanno incentrato I loro interventi Sulle due grandi novità Di quest'anno La 10 chilometri Dell'Isippo Gara non competitiva Dislocata tra il centro storico E il mare di Fano E We Run to Help Lotteria di solidarietà In favore delle popolazioni Terremotate di Val Fornace Madrina della manifestazione Sarà Laura Fogli Atleta che in 15 anni Di carriera Ha partecipato a 35 maratoni Tre campionati del mondo Tre campionati europei E due olimpiadi E attualmente Allena diversi amatori Tra cui il cantante Gianni Morandi E chiudiamo la rubrica Di questa sera Parlando nuovamente Dell'Ispot Fano Che venerdì scorso Ha organizzato Il sesto meeting Regionale di Bocce Alla bocciofila San Cristoforo Bella ed intensa giornata di sport Cui hanno partecipato Oltre alla società fanese Le associazioni SoSport di Urbino E Antropos di Civita Nova Marchia La manifestazione Organizzata dalla FIB Federazione Italiana Bocce E dalla FISDIR Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale Ha visto scendere in corsia 32 giocatori Con i padroni di casa A dominare la scena Con 4 ori e un argento Primo posto Per Manuel De Marc E Manuel Anniballi Nella coppia Agonismo C21 Per Jacopo Primavera E Riccardo Conti Nella coppia promozionale Per Manuel De Marc Nel singolo C21 E per Mirko Governatori Nel singolo promozionale Categoria Che ha visto anche Il secondo posto Del piccolo Lorenzo Bronzini E continuiamo a parlare Di bocce Più precisamente Quelle su strada Specialità meglio nota Come boccia alla lunga Per darvi la notizia Della vittoria Del campionato regionale Di Serie A Della squadra Ferramenta Moschini di Piagge Domenica 26 marzo Nella sfida decisiva La squadra del capitano Marco Pasquini Ha superato Montemaggiore Per 5 a 3 E con le bocce Si chiude la pagina sportiva Di questa sera A me non resta altro Che ricordarvi L'indirizzo mail Al quale inviare Le vostre segnalazioni Che è sport.fano.tv Da parte mia Della redazione sportiva È tutto L'augurio a tutti voi Di una buona serata E di una buona Pasqua Bene Grazie Alla redazione sportiva Grazie a Matteo Del Vecchio Vi ricordo Che domani sera Trasmetteremo anche Un servizio Sulla Coppa del mondo Di ginnastica ritmica Che si è conclusa A Pesaro Domenica Pomeriggio Allora Ci siamo Il telegiornale è finito Vi ricordo Che dopo di noi Andrà in onda La replica Della festa Della polizia Che abbiamo Trasmesso già in diretta Questa mattina Sul nostro canale Sul canale 17 Io mi fermo qui Grazie per averci seguito A voi tutti Vi auguro di una buona serata Grazie a tutti Autore dei sorrisi